Ciao a tutte e ciao a tutti! Allora, questa mattina preparo un trucco sui toni dell'arancio perché sono vestita in nero e d'arancio quindi farò un trucco adeguato secondo i miei gusti ovviamente. Allora, ho già messo il primer sull'occhio Allora, ho appena un pochino di arancio qua sotto. Così. Ecco. In questo modo. E questo colore l'ho preso da una palette bella oggi. Ecco. Ok. Allora, cerco di... Di stare.